Il presidente della Georgia, Mikhail Saakashvili, con il compagno presidente dell'Ucraina, Viktor Yushchenko. Assieme a George Bush, hanno tentato di costruire lo Stato democratico. Allora, cosa sta succedendo qui? Di nuovo non fate un accidente? Oh, è arrivato Bush! Capo, capo! Ma smettila, Mischa Kamarjoba, non mi ricordo come ti chiami. Allora, cosa è combinato? Cosa ho combinato? Ti ho dato i soldi per la democrazia. Sì? E dove sono? Dove sono? Ti sto chiedendo, hai comprato la democrazia? Comprato! Dov'è la democrazia? Dov'è la democrazia? Non c'è democrazia! Non c'è democrazia! Non c'è! Non c'è! E perché mi hai dato quei soldi? Ascolta, sei un deficiente. No, tu sei deficiente. E tu? Che stai a fare lì, zitto, zitto, amico caro? A che pro hai fatto la parata sul Maidan? Per spaventare il vicino. E allora l'hai spaventato? No, non l'ha neanche guardata. Allora, vi ho già detto, Putin per voi non è un capo. Capo? Capo? Cosa mi dite della Crimea delle navi? Ho detto, non vi faccio passare! E allora l'hai detto e poi ho detto e basta. E ora tu? A che pro hai ficcato il naso nell'Ossetia? Perché ci hai creato un casino? Tu mi spaventavi e io ho fatto un casino. Pussa, via! Via! Allora, racconta tutto. Com'è andata? Putin è iniziare la guerra. Io correre con il fucile. Io vedere la bomba cadere. Io cagare. Che fucile! Che correre! Tu dovevi comprare i carri armati. Li hai comprati? Io comprare due carri armati. E perché non hai sparato? I carri erano rotti. Ma in dove vai? Perché li hai venduti i carri armati rotti? Non sapeva. Chi non sapeva? Lui non sapeva. E io vendevo. Cosa ne fa dei carri rotti? E io invece che ne faccio? Cosa vuoi fare dei carri armati rotti? Li metterò dentro la casa. Sarà bello. Adesso mi buschi. E ora dove sono? Li ha ritirati Putin? Cosa farà di questa robaccia? La comprerò io. Ma sei un deficiente. Ma se tu sai che sono rotti. Li rivendo. A chi? A me? Allora facciamo un po' di chiarezza. Candalisa Rice è venuta da te. Venuto qualcosa di molto nero. Mi spaventava. E cosa le hai detto? Ho detto aaaaaaah. Dimmi un po'. Cosa sei venuto a fare da lui? Lui è mio compare. Chi di noi è il presidente dell'Ucraina? Tu o io? Tu, tu. O io? Allora, hai litigato con Timoshenko? Sei tu che hai litigato. Ho chiesto, hai litigato con Timoshenko? Tu hai detto e io ho litigato. Vai a fare la pace. Capo? Ma so già di essere capo. Non hai capito? Non sei tu il capo. Lei è il capo. E io allora chi sono? Tu sei un deficiente. Ti ho chiesto se intendi comunicare con lei. Io volere comunicare. E tu che ne fai di lei? La metterò dentro la casa. Bell'arredamento. Basta, vi avviso per l'ultima volta. Se farete i furbi di nuovo, vi lascerò a fare i presidenti per altri cinque anni. Faremo i furbi, faremo i furbi.